ben ritrovati su anima ribelle live buona domenica e oggi affrontiamo un nuovo valore a elevazione di un disagio ormai lo sapete ebbene oggi affronteremo il valore della confidenza a elevazione udite udite della gelosia ma per compiere questo viaggio ci facciamo aiutare come sempre da Ida eccola qua ciao Ida buongiorno eccoci allora Ida oggi affrontiamo la confidenza ma anche la gelosia quindi andiamo a vedere subito di che cosa si tratta eccolo qua il nostro capo d'opera che cosa ci dice intanto ci dice la genesi che il valore della confidenza nasce dal valore della fiducia e questo era facile da dedurre che si fonde col valore della stima a significare che chi è confidente conosce così bene l'altro da non serbare alcun sospetto e quindi ecco quando noi ci diciamo sono il tuo confidente puoi dirmi qualsiasi cosa perché anche le più segrete la fiducia che tu serbi in me e io in te farà sì che io le possa mantenere e non diffondere ad esempio quando si dice ti faccio una confidenza ma non dirla ad altri ecco quindi come si contrappone la confidenza alla gelosia beh perché la gelosia nasce dal sospetto e siccome la confidenza è fiducia quando non c'è nasce il sospetto e quindi può svilupparsi la gelosia diventare gelosi e allora hai mai avuto a che fare con la gelosia e la confidenza cara sì è una diciamo tema molto molto forte penso e penso universalmente sentito no in tutti poi tutti i cambi particolari nelle relazioni puoi venire un po più centrata scusami che sei proprio tutte da un ecco sì postati in qua cioè noi no in qua sì ecco perfetto benissimo va bene allora scusa è un tema molto penso molto sentito insomma parlarne penso che faccia anche bene a molti perché immagino chiunque di noi nella sua vita avrà sperimentato un'esperienza di gelosia o anche di come dire soggetto di la sensazione di essere oggetto della gelosia frui altrettanto quindi da ambo i lati no in qualche modo e penso per la verità che la genesi della gelosia possa essere di di vario tipo di vario tipo cioè che non necessariamente occorra essere persone ma fidate per poter essere gelosi a volte il problema invece fare una situazione difficile da accettare per magari le mille staccettature che ha l'essere umano per l'incoerenza molto spesso ci pernea cioè ci caratterizza e quindi per la possibilità anche a volte che che abbiamo di essere estremamente confidenti ma al contempo poi di innegarla quella confidenza quindi anche la capacità dell'essere umano di tradire la fiducia altrui che purtroppo è altrettanto un fatto come come no esiste la fiducia tradita esiste è un equilibrio estremamente difficile dinamico diciamo un equilibrio dinamico questi piatti della bilancia devono riuscire a guardarsi l'un l'altro no in questa metafora dei piatti della bilancia è come dire che l'uno e l'altro dei personaggi che hanno a che fare no con questi sentimenti debbano guardarsi reciprocamente per sentirsi e quindi stabilire quella bilanciamento di fiducia altrimenti altrimenti scocca la gelosia e sai penso che sia un'operazione che può avere un essere umano adulto qui in realtà stiamo sempre parlando di problematiche che si innestano tutte quante quando siamo un po infantili nell'infantilismo noi siamo al centro dell'universo gli altri sono una nostra proiezione è tutto come dire gira attorno alle nostre paure tra parentesi poiché siamo in realtà creatori inconsapevoli anche le paure purtroppo si avverano e quindi molto spesso chi è geloso ha anche a che fare con persone che tradiscono e certo e beh se la chiama e questa sono la legge di attrazione per affinità è ciò che pensi prima o poi si avvererà prima o poi allora senti vediamo appunto no il primo mantra insomma no che riguarda il suono ormai lo sanno già no chi ci segue che il suono porta questo comando c'è l'informazione proprio alla coscienza poi sul nostro canale di fraternity channel su youtube abbiamo messo di recente anche proprio una meditazione visualizzazione per arrivare a quel punto di coscienza che noi chiamiamo corpo causale cioè il luogo dove l'anima si incarna entro la persona e quindi proprio potete seguire passo passo e ritrovarvi in un punto che sulla testa ma nel piano mentale e nel suo come dire nella sua vibrazione più vibrante nella sua frequenza più vibrante e da lì constatare che siete nel punto e nel luogo in cui potete creare eh sì potete creare proiettare e avere anche il dominio volendo sui corpi della personalità allora andiamo al suono che dice semplicemente si fa per dire conosco il segreto dell'essere semplicemente con un po o tanta ironia no perché conosco il segreto dell'essere beh è un comando che solo la coscienza ma direi una coscienza pura una coscienza scevra no da da dubbi anche da dubbi si può penetrare e avvalersi di questo comando di questa informazione per agire sui propri corpi conosco il segreto dell'essere e ti rimando sempre la palla per sentire che cosa ne pensi allora io credo che conoscere il segreto dell'essere possa significare insieme due cose cioè riesce di riuscire ad essere in una connessione divina con l'altro tale per cui effettivamente si possa rimanere in contatto in una realità superiore ma al contempo riconoscere la natura umana dell'altro quando io prima dicevo l'approccio deve essere un approccio adulto che cosa vuol dire un approccio adulto un approccio adulto è un approccio che si muove nell'accettazione di quello che è ma muoversi nell'accettazione di quello che è quindi riconoscere l'essenza segreta dell'altro significa anche non idealizzare l'altro perché anche l'idealizzazione nasce da un atteggiamento di immaturità laddove si ha bisogno di vedere l'altro in una chiave edulcorata perché in quel momento la nostra bambina il nostro bambino interiore ha bisogno di avere la sua realtà da fiaba in questo trasciniamo l'altro a volte anche una visione eccessivamente fideistica io una volta lessi un post molto semplice di un amica che fa spiritualità anche la psicologa che diceva proprio la fiducia cieca non va bene la fiducia dei bambini allora il discorso è un altro accogliamo quello che abbiamo davanti accogliere quello che abbiamo davanti in pieno non significa essere gelosi se l'altro ci tradisce che è una ferita normale per chiunque certo ma riuscire a comprendere le motivazioni per cui che sono dietro a quel tradimento ad accogliere la persona per quello che è se quello che è quella persona non è l'ideale per noi andare via anche il coraggio di lasciare lasciare andare in questo caso anche in questo caso anche nel caso in cui ci sia stato un rapporto di confidenza tradito la gelosia è inutile è solo una sofferenza per noi perché una volta che l'altra persona eventualmente tradendo la nostra fiducia ha aperto il cuore oppure ha anche avuto un incontro che dovrebbe appartenere alla sfera privata della coppia invece l'ha vissuto con qualcun altro vuol dire che ha scelto deliberatamente di fare quella cosa e se l'ha scelto essere gelosi per quello o imporre la nostra volontà non serve a niente perché chi ha un istinto di questo genere o lo va a guardare e quindi ne prende coscienza e sceglie per far crescere la relazione quindi può anche diventare un'opportunità ecco un unico tradimento di crescita interiore di guardarsi dentro di comprendere che quando si tradisce si tradisce prima se stessi poi si tradisce la relazione di cui si fa parte e poi si tradisce l'altro quindi sono tre tradimenti in uno non uno si consapevolezza fa sì che porti l'altro a guardarsi dentro e a risolvere il problema che il tradimento oggettivamente una ferita all'interno della coppia appunto lì l'accettazione del fatto che stiamo tutti umani la visione dell'altro come un essere segreto ma a un essere divino e umano ci può portare grandi per perdono all'accoglienza eccetera ma sempre in una non una fiducia cieca ma in un'accettazione e una capacità di vedere l'altro per quello che è né di più né di meno avere la misura vedi nella fiducia proprio perché non sia cieca deve entrare la conoscenza quindi avere fiducia dell'altro significa anche avere penetrato le sue fragilità quindi conoscere le sue fragilità in modo che non ci siano segreti stiamo parlando di una coppia ma allora c'è anche quella intima confidenza forse la confidenza è già intima ma lo diventa ancora di più e lì si può stabilire una fiducia profonda che anche una sorta di fede che ci fa sentire che l'altro qualsiasi cosa faccia e può cadere no può sbagliare perché l'errore è sempre alla nostra portata di mano comunque non lo fa con cattiveria ma lo fa perché siamo fallaci è importante sai questo perché presupporre che ci sia un'intenzione lo ha fatto apposta fa scattare la gelosia immediatamente lo ha fatto apposta allora non mi vuol bene allora non mi considera ecco qua la svalutazione no che ci cade addosso e parte la gelosia perché è l'unica reazione umana ma anche infantile in effetti dunque divenire adulti significa prendersi la responsabilità responsabilità di accettare l'altro per quello che è e se dopo anni magari in un rapporto di coppia che l'altro per sue motivazioni cambia no beh certo lì si prenderanno altre decisioni naturalmente quando c'è il cuore di mezzo sono sempre sofferte sempre sofferte ma ciò non significa che si debba sottostare all'infantilità dell'altro perché o si cresce insieme oppure meglio separarsi e lasciare all'altro o all'altra i suoi tempi di crescita perché ognuno ha i propri tempi e non crescere volendo cioè è certo anche quella perché ci sta ci può stare ci può far male anche per l'altro però dobbiamo comprendere ognuno ha i propri tempi e bisogna rispettarli e quindi cara hai perfettamente ragione perché nella confidenza cioè se c'è un rapporto di confidenza in una coppia vuol dire che c'è un rapporto di onestà anche se appunto per l'appunto come ho detto prima magari si fa uno sbaglio o si per un ci si perde un attimino all'interno del dell'onestà con se stessi perché ripeto il tradimento è sempre un atto di mancanza di onestà anche verso se stessi nel momento in cui invece nel rapporto a un valore di confidenza tale per cui vale la pena anche venire non venire a fatti a maggior ragione comprendere con se stessi le ragioni per cui si è tradito se siamo colui che all'interno della coppia tradito comporta una crescita all'interno della coppia diventa un'occasione di crescita perché come sempre un'occasione di guardarsi dentro ma ci deve essere questa disponibilità ma certamente che non è non non è non è facile per cui e poi voglio dire c'è sempre il discorso di rivalità no che si percepisce nei confronti di un'altra persona ma vuol dire la competizione che ci può essere anche nella coppia nel rapporto di coppia perché in un momento in cui il tuo partner ti tradisce con un'altra un altro uomo un'altra donna chiaramente scatta la competizione e si comincia in quel senso ma che vuoi no si mette in discussione se stessi ma lì più che una competizione sai diventa una vendetta sottile perché in quella competizione allora anch'io ti tradirò e lì c'è la vendetta proprio perché ci si sente feriti ma anche lì la vendetta è un atto infantile purtroppo anche questa e quanti si vendicano perché ma lo vediamo anche nei popoli nelle nazioni no è il mio diritto quello mi hanno aggredito è il mio diritto sono stato offeso il mio diritto a vendicarmi vendetta no di biblica memoria no perché si fa ecco però noi siamo in una civiltà che è cresciuta comunque anche con tutte le sue strutture ma comunque gli uomini civili di oggi sanno che crescere significa accettare misurare e misurare accettare e dunque se adulti quando non ci fa più paura la differenza che è anche una differenza di valori tra noi e gli altri comprendi no il razzismo nasce da questo perché tu valuti o svaluti l'altro e dici no non è alla mia altezza nel razzismo c'è sempre una valutazione una dismisura ma comunque ritorniamo al focus di oggi e quindi andiamo a rivedere in questo capo d'opera il secondo mantra che riguarda la luce la luce che è un comando al nostro corpo mentale poiché la luce è sempre assimilata alla mente avere visione illuminare la mente avere chiarezza vedi sono tutti termini appellativi che risuonano di luce e allora il mantra della luce poi c'è anche l'immagine che la vedi e il mantra ripercorre l'immagine la mia mano nella tua e qui abbiamo scelto questa immagine di una mano adulta e di una mano bambina proprio per portare l'accento su questo rapporto che come tutti i rapporti non è mai alla pari non esistono rapporti alla pari è un'illusione c'è sempre chi ha più capacità di comprensione e quindi di accoglienza rispetto all'altro poi ci possono essere molto simili no quei rapporti d'accoglienza ma in questo caso in questa immagine vediamo anche che c'è proprio un una relazione di protezione la mano dell'adulto che prendendo la mano del bimbo sa che lo sta proteggendo sa che quella mano dell'adulto può essere una guida per il bambino e c'è sempre in questo rapporto così anche come in uomo donna possiamo dirlo no generalmente la donna cerca protezione nel rapporto con l'uomo è un fatto istintivo forse atavico no che ancestrale che nasce dalla notte dei tempi è un rapporto anche di ruoli che pur esistono anche se nella nostra società il ruolo uomo donna è sempre più labile no quei confini ed è giusto così ma dunque in questo mantra la mia mano nella tua c'è anche tutto quel rapporto di fiducia che promuove la confidenza cosa ne pensi cara sicuramente guarda ecco l'esempio della mano tra un adulto e il bambino in realtà ci rimanda al rapporto genitoriale no che poi è la forma di amore più facilmente sana perché più pura almeno quando il bambino è piccolo no l'amore incondizionato che ci deriva dall'essere genitori è un amore un po diverso da quello che si ha nel rapporto di coppia c'è un genitore non può tradire un figlio nel senso che esistono casi anche di questo tipo no come no hanno preferenza tra i fratelli oppure però in linea di massima un genitore che ha in maniera incondizionata tradisce un figlio per questo è il rapporto di confidenza maggiore che si possa immaginare in un rapporto di coppia per me un amore sano si muove nella reciprocità che non è un calibrare con la bilancina in mano cosa ti do io ma è una un flusso spontaneo che si genera tra due persone che che confidano l'una nell'altra che si amano ed è un fatto energetico per cui molto spesso è proprio una sensazione a livello energetico che sia in tante coppie a volte la gelosia si si scatena quando istintivamente e molto spesso effettivamente risponde a un'intuizione di qualcosa che non va legata nemmeno a delle prove concrete e questo peggiora le cose di solito perché si da quali energetiche dentro di qualcosa che è cambiato lì succede sai per in quello che diventa geloso anche senza che ci siano delle ragioni subentra un altro fattore che quello del possesso la persona si nel rapporto che vive quel rapporto nel possesso cioè vuole possedere l'altro automaticamente quando non riesce a possederlo nel modo in cui vuole diventa gelosa quindi il possesso ha molto a che fare nel rapporto ma ti volevo dire a proposito di come un genitore può tradire un figlio non solo nel tradimento diciamo no della fiducia ma c'è anche un altro modo è tradire il suo bisogno di amore e molto molto spesso succede anche una madre o anche un padre che non siano capaci del di dare ai figli quel bisogno di amore che i figli hanno questo da parte del figlio viene tradotto in un vero e proprio tradimento si sentono traditi traditi nel bisogno di amore e dunque dobbiamo sempre considerare ecco anche questo no come la confidenza vuol dire anche sapere donare l'amore richiesto è bello anche questo aggancio è con saper donare l'amore richiesto e non sempre perché in altri diciamo vabbè ma vuoi troppo amore no che poi vuol dire vuoi troppe attenzioni in genere ma l'amore non riguarda solo l'attenzione riguarda proprio l'accettazione dell'altro per quello che è cara e certo oggi diciamo si parla molto anche in relazione alla crescita personale e relazione ci sono tante persone no che parlano di relazioni proprio perché è un periodo per la coppia molto difficile cioè stare in coppia in questa epoca è difficile richiede un certo tipo di mediazione di ascolto di se stessi conquista di maturità dopo a termine di un percorso e purtroppo per come è strutturato proprio il nostro mondo oggi se non si è fatto questi la coppia dura ben poco perché non si riesce ad andare in profondità dentro di se stessi dentro la relazione non si non si trova il giusto equilibrio tra il mediare tra le proprie esigenze interiori capire quali sono quelle come dire primarie quali secondarie a cosa si può rinunciare per investire sentimentalmente con un'altra persona cioè per fare un atto di volontà libero per carità io ho tanto fastidio quando dice che cosa scegli l'amore o la libertà ma perché uno deve scegliere tra le due voglio dire quando una persona ama è chiaro che fa che delle piccole venunce perché non ci sono due anche molti ci vogliono far credere nel campo della crescita personale che casualmente si incontrano e stanno bene perché stanno bene senza senza nutrirlo quel rapporto e nutrirlo significa anche mettere un impegno in rapporto ma l'impegno è libero cioè non non diamo la responsabilità è una scelta libera imprigionati perché siamo noi a scegliere di impegnarci in quella persona il momento in cui però noi lo scegliamo ci dobbiamo muovere una dimensione di confidenza di rispetto chiaramente fa parte della confidenza però e anche come detto tu nel nel nella disponibilità ad amare cioè prestare cura a proporsi in maniera da far sentire il nostro amore all'altro e far sentire le necessità dell'altro caro perché ognuno di noi alle proprie necessità e qua l'amore significa anche questo esaudirle perché quando l'altro ci chiede qualche cosa e sentiamo che ci chiede una cosa che per lui è vitale per lui o lei chi ama beh gli dona quella cosa perché l'amore è fatto di dono non è uno scambio di interesse come spesso diventa io ti faccio questa cosa se tu la fai a me anche no allora ecco in una reciprocità di interesse no l'amore è fatto soprattutto di dono di darsi donarsi e quando noi liberamente certo scopriamo che ci diamo liberamente all'altro ma guarda c'è un senso di libertà che è compenetrato al senso di unione sembra uno simolo no ma unione e libertà vanno sempre d'accordo quando il cuore dà alla mente la chiarezza di intendere la chiarezza di intendere è il cuore che gliela dà alla mente e non il contrario ma vogliamo arrivare al prossimo perché sai qua il tempo passa no che è già è già mezz'oretta che sembra cinque minuti invece è già mezz'ora che stiamo portando il nostro apporto ad approfondire il concetto di confidenza e allora dopo queste mani quella maggiore che quella più consapevole forse che protegge mantiene custodisce quella del bimbo abbiamo il colore dunque il colore giunge sempre al cuore poiché il cuore possiamo dire si ciba di qualità e quindi di colori ci hai mai fatto caso anche quando guardi un bell'ambiente no la natura piena dei colori della primavera o dell'autunno adesso no quei gialli belli gli arancioni autunnali no che il nostro cuore gioisce proprio perché il nostro cuore è fatto potremmo dire per le qualità no quindi quando ci arrivano e le qualità si esprimono la natura li esprime attraverso i colori dunque noi associamo sempre al colore la qualità e infatti quando dipingiamo no solo vedere i colori che usiamo ci rende qualitativamente felici allora questo colore che va dritto al cuore a comunicare al cuore gli dice apro il cuore al mistero e lì il cuore si scioglie a questo comando per percepire il non conosciuto perché c'è un aspetto nella confidenza abbiamo detto il suono conosco il segreto di te ma nel colore c'è apro il mio cuore al mistero poiché nella conoscenza dell'altro nel conoscere il suo segreto è svelare il mistero della vita ogni nostro segreto portato nel cuore è un piccolo grande mistero della vita e quando noi lo penetriamo stiamo penetrando la vita e questo da un lato ci rende molto consapevoli della responsabilità che abbiamo e dall'altro ci fa arrendere alla vita poiché la forza della vita alla forza della vita non possiamo competere con la forza personale bisogna solo accoglierla e quando l'accogliamo quel mistero si palesa che ne pensi cara penso che è molto bello in relazione quella che è la confidenza quindi l'apertura di cuore relazione a un altro e la comprensione che non tutto è sotto il nostro controllo quindi l'accettazione dell'ignoto che rappresenta pur tuttavia l'altra persona perché è pur sempre un altro mondo e l'ignoto vissuto come qualcosa che ci stimola alla conoscenza non al controllo l'ignoto purtroppo spaventa no cioè purtroppo spaventa anche comprensibilmente nel senso che è sempre più facile orientarsi di dove si ha una conoscenza completa ma poiché in realtà chi è sul cammino la conoscenza di se stessa l'acquisisce lungo il cammino quindi non si conosce pienamente se stessi figuriamoci come si può conoscere l'altro perché la ragione che abbiamo detto rispetto alla natura umana è sempre c'è sempre no un margine di rischio che in quell'apertura si possa venire feriti dall'altro ma lo si accoglie anche quello con un anche con una fiducia nella vita una fiducia nel fatto che se in qualche modo noi siamo consapevoli del fatto di quello che dicevo prima ovvero che l'altro è un essere umano con le sue contraddizioni con i suoi limiti noi saremo capaci di fare quello che hai detto tu ovvero non leggere nel comportamento dell'altro eventualmente come dire scorretto con noi stessi ma un agito che riguarda la persona e non noi mentre invece ripeto anche in una visione così ecocentrica di noi la prima cosa che si fa e questo in relazione anche a un eventuale rivale e vedere la rivale come un competitor quel fantasma che ci rimanda quelli insicurezza in noi stessi per cui in automatico magari crediamo che il partner abbia scelto una persona migliore di noi e quindi noi non siamo dei dell'amore del nostro partner questo è un boomerang della gelosia e lì scatta la gelosia certo e si comincia a proiettare sul rivale l'amore rabbia odio ma soprattutto questa è la cosa peggiore ci si comincia a sentire insicuri rispetto all'altro cioè si comincia a pensare di essere meno dell'altra persona quindi l'altra persona comincia ad avere la nostra proiezione della nostra visione minorata di noi stessi ed è anche questa un'illusione non solo questo timore mette in rilievo come noi in qualche modo consideriamo il partner c'è molto spesso per me è sempre stata una cosa un po paradossale molte persone sono gelose se la prendono contro di vale non se la prendono proprio parte arrivare in termini conosci il fatto che qualche modo c'è un fatto di fiducia più o meno ma perché c'è il possesso comprendi il partner è mio e quindi me la prendo con te che viene ad usurpare la mia proprietà perché proprio quello è il possesso e quindi non me la prendo col partner che è già mio ma bene la prendo con te che vuoi la mia proprietà è proprio quello per la mia amica l'impressione infantile anche questa perché il possesso c'è quando c'è un amore infatti il mio giocattolo il mio anno alla posto che ogni persona libera dopo di che ogni persona si prende la propria responsabilità le proprie scelte è chiaro che magari un terzo può essere più o meno dispettoso anche dell'altro e magari c'è una competizione anche dal lato esterno però chi rende possibile quella competizione è il partner eventualmente e allora lì dobbiamo veramente guardare all'altro momento ma questa persona è è realmente migliore di me ed è adulto ragionare in questi termini cioè no è adulto proiettare un lato quello che sono le nostre la nostra sensazione di mancanza inconscia è chiaro che c'è una svalutazione dell'io personale e quando ci svalutiamo non è solo certo siamo nella personalità e quindi svalutiamo l'io ma non ci rendiamo conto che stiamo svalutando la nostra capacità di relazionarci col mondo ma anche col mondo superiore quindi nella svalutazione di se stessi sai c'è sempre una non fiducia della nostra essenza divina della nostra essenza animica poiché in genere le persone non sono abituate a raffrontarsi veramente a chi sono e al di là della religione l'aspetto del superiore che è vissuto in modo trascendente non immanente no cioè vuol dire non il divino che è me ma il divino che è sempre oltre me è anche difficile da raggiungere perché questo poi è il divino trascendente no trascende dalle mie possibilità umane ecco perché invece il divino immanente è la riconquista dell'uomo dell'essere umano di quella divinità che gli stesso rappresenta ovviamente rappresenta nel momento in cui esprime mette a frutto le qualità dell'umanità che sono le qualità del divino ricordiamocelo sempre le qualità umane i valori che poi esprimono qualità sono divini quei valori e quando noi li attuiamo diventiamo realmente umani altrimenti siamo più o meno come le bestioline che vivono distinti e non hanno nessuna colpa in questo ma noi che ci riteniamo umani quindi come regno venuto dopo o al di sopra di quello animale si fa per dire al di sopra perché tante volte gli animali ci insegnano ma dobbiamo renderci conto che diveniamo veramente umani e onoriamo l'umanità nel momento in cui onoriamo quell'aspetto divino che è l'aspetto creativo che è in noi ricordiamocelo sempre siamo divini poiché siamo capaci quando lo vogliamo di esprimere l'umanità attraverso la creazione di tutte le scoperte e le invenzioni che il genere umano ha fatto da sempre quindi la genialità umana è l'aspetto concreto del divino portato entro la materia ogni tanto ci vuole ricordarlo perché altrimenti ci infiliamo in queste opposizioni polarizzazioni appunto dei sentimenti delle emozioni e via dicendo ma ci scordiamo che il nostro vero compito è quello di portare quel divino attraverso la nostra genialità e quindi nelle invenzioni nei rapporti e di migliorarli cara allora arriviamo alla vibrazione lo inquadriamo subito il nostro capo d'opera con la vibrazione che recita sento me stesso nell'altro e questo mantra che arriva proprio alla pancia possiamo dire no di noi stessi al corpo di desiderio ci dice che io e l'altro siamo uno e anche questo è un riconoscimento di umanità che prevalica la diversità le differenze sì siamo diversi ma nell'essenza io mi vedo qui tom ha anche tutta l'importanza all'interno della relazione di quanto l'altro ci faccia da specchio quanto sia un risvolto della punto della dell'unità della stessa medaglia può esserlo in vari modi è certo in tutti i modi possibili certo nelle varie forme nello specchio non è semplicemente chi ci sta di fronte agisce agirebbe come agiamo noi ma alle volte anche proprio lo specchio volto farci comprendere i nostri confini le nostre ombre anche sai no è certo che l'altro per come siamo detti al mantra precedente è incognito e in quell'incognito però è anche siamo anche noi e in quell'incognito che noi riusciamo a conoscerci in qualche modo e noi ci conosciamo e possiamo conoscere anche quando siamo obbligati nella situazione a mettere appunto a delineare i nostri confini cioè a fare un'opera di avanzamento e arretramento in relazione all'energia dell'altro a quello che è l'altro e che ci dà la contezza di quello che siamo noi di quello e ce la dà a volte per similitudine nel senso che effettivamente magari noi condanniamo nell'altro qualche cosa che ci appartiene altre volte per contrapposizione nel senso che magari un agito dell'altro va a muovere l'agito opposto nostro no apposto di una carnefice sai che c'è un'immagine hai appena detto no va a muovere il nostro agito in questo gioco non ci vedi piatti di una bilancia che quando si alza uno l'altro scende e viceversa e in questo movimento della bilancia che non è stare alla pari fermi no rigidi ma è una oscillazione reciproca i due piatti si ascoltano anche perché sono collegati allo stesso fulcro che li unisce no però la metafora è bello no pensare che l'uno e l'altro no dei due ascoltandosi reciprocamente quando l'uno si alza l'altro si abbassa e viceversa il che vuol dire che quando uno vuole portiamolo nella comprensione e comportamento umano quando uno in qualche modo vuole imporre la propria personalità che può succedere no imporla o a questa urgenza di esprimerla l'altro è in ascolto quello che più in basso no nella metafora è in ascolto e così via poi a un certo punto la fluttuazione cambia e quindi quello che era in emissione anche del proprio io sta in ascolto e l'altro in un susseguirsi di dialogo no un dialogo interiore ed esteriore che vuol dire sempre ascoltarsi e dunque anche nell'oscillazione c'è il rispetto della unione nel fulcro vedi nel rapporto di coppia c'è sempre un fulcro che unisce i due l'uomo donna e il seguire l'altro anche nell'oscillazione beh rende il rapporto più forte e anche sereno si può utilizzare la metafora della danza no una compatibilità di coppia la danza tra due persone spontaneamente armonica ci si lascia portare dall'alto ci si lascia portare vicino volmente in realtà che dice che l'uomo che che porta donna quella del ballo grazie ma a volte si scambio nei ruoli è un sentirsi è proprio un sentirsi sulla base di consentirsi fare dei movimenti che creano quando una coppia balla bene insieme hai una coreografia cioè ti fermi anche di vedere di vederli di vederli certo è una coreografia spontanea esprimo l'armonia bellezza certo c'è tutto insieme attorno nell'osservazione e e per me questo è il rapporto la capacità di danzare insieme la capacità anche come si diceva prima qui voglio vorrei dire un attimo una cosa perché io sento molto spesso molti parlare molti guru delle relazioni anche virtù della crescita personale io penso si dicano esattezze nel momento in cui si dice in una relazione sana non ci si relaziona con le ferite in una relazione sana non ci sono aspettative in una relazione sa ma la relazione sana non è quella che hanno due esseri che hanno già raggiunto la pubblica ma no ma quelli sono due angeli e che lì sono due angeli non sono due essere umani sono già cresciuti ma chi si trova in relazione si si trova in relazione nello stato di essere umano quindi con delle ferite ora è chiaro che se ci si relaziona solo dalle ferite il rapporto diventa una bomba tossica che ci butta giù e anche quello in linea di massima ci consente di crescere perché inevitabilmente ci mette di fronte delle cose che dobbiamo affrontare ma per me un rapporto sano e entrare in coppia sapendo che siamo esseri fallaci sapendo che ci presentiamo col nostro bagaglio di ferite però che siamo disposti a guardarcele il compito del partner non è pensare solo solo ai fatti propri quindi ognuno è responsabile per se stesso certamente ognuno è responsabile per se stesso ma ognuno è responsabile anche della relazione e ognuno è responsabile al cento per cento di come si comporta con l'altro così come ognuno è responsabile al cento per cento delle proprie reazioni in virtù del comportamento dell'altro ma sono due aspetti della stessa medaglia e quindi nessuno è esonerato da una responsabilità importante personale perché quella responsabilità che determina la possibilità della crescita del rapporto e allora è inutile che l'uomo non sia un essere psicologico che ha delle reazioni automatiche in alcuni casi ma non c'è colpa è questo non è una cosa sbagliato chi entrano nella relazione psicologica noi siamo anche macchine purtroppo noi siamo anche macchine però ne abbiamo la possibilità di andare a svelare i nostri comportamenti automatici quantomeno di cominciarli a guardare e comprendere che quei comportamenti automatici sono nostri sono pienamente nostri e quindi assumerci nella responsabilità solo quando li abbiamo visti in questo modo che sono nostri possiamo elaborarli ma finché noi li vediamo e li giustifichiamo come automatismi non abbiamo nessuna possibilità di poter intervenire sono automatismi e quindi continueranno così ad libitum fino a che noi li osserviamo e li vediamo non solo ma valutiamo se ci stanno bene o no perché questo è un altro passaggio cara i nostri comportamenti sono parlando di noi quando noi ci osserviamo anche nello specchio dell'altro no ci fa da specchio ci fa rivedere anche un nostro comportamento magari che magari non abbiamo colto in noi no ecco poi dobbiamo valutare osservandolo se ci piace o meno siamo ancora così vogliamo essere ancora in quel modo vogliamo ancora reagire in quel modo o c'è un modo migliore che stiamo intravedendo e allora da lì inizia la trasformazione il cambiamento in meglio ma finché noi non ce ne accorgiamo e non decidiamo che così come siamo in quel comportamento non ci piace continueremo a portrarlo nel tempo ad libitum quindi eccoli nella confidenza c'è anche il non solo vedersi ma anche parlarsi e dirsi io ti sto guardando in questo modo c'è qualche aspetto di te che a me non convince te lo sto dando anche qui nel modo più costruttivo possibile perché altrimenti diventa conflitto immediatamente così non mi piace io non ti accetto e parte il conflitto ma se io riesco a comunicarti questa cosa posso dare a te nella specchiatura un'immagine di te che quando tu lo osservi può essere beh però sì questo mio comportamento non mi piace e quindi posso intervenire ma sei mai sempre l'altro cioè noi siamo sempre noi che possiamo decidere di cambiare in meglio o no possiamo anche cambiare in peggio ma la decisione è sempre ora nel partner noi possiamo avere un allenatore consapevole nel senso possiamo avere un complice nella crescita comune oppure possiamo impostarla nella conflittualità nell'inconsapevolezza eccetera eccetera e quindi il vero confidente è quello no quello che ci aiuta a crescere e la confidenza sta proprio in questo caro dunque vediamo l'ultimo dei mantra che l'azione sono certo di chi sei mamma mia è sconvolgente nella sua immediatezza sono certo di chi sei ti conosco così in profondità che so chi sei questo vuol dire no implicitamente in quella certezza c'è la dimostrazione dell'averti accettato è bello questa conclusione dell'azione del ma l'abbiamo fatto vedere ecco qua lo vedete no nella cesi perché l'ho visto io ma non è un certo che l'hanno visto anche i nostri spettatori e allora cara su questo ultimo sono certo di chi sei che c'è di più bello che se chiesti visto da un'altra persona e quindi conosciuto nella nella profondità questo non voglio parlare sempre relazioni affettive ma anche nell'amicizia no certo anche nell'amicizia di amicizia riesce a diventare un bene anche maggiore perché sono ancora minori e quindi quando si conosce profondamente un amico e si ha la sensazione di essere accettato intorno più facile accettare l'amico nella sua umanità piuttosto che chiaramente un rapporto di relazione e nell'amicizia accettiamo anche che l'altro l'amico sia un vero amico ci dica anche quello che non va in noi che lui sta vedendo no cioè ci può anche criticare in modo costruttivo e in genere nell'amicizia lo accettiamo anzi diciamo se sei un vero amico mi devi dire anche no se non è che mi approvi comunque ecco è sempre perché gli amici ci servono a maggior ragione no per farci vedere anche quello che in noi non va sì 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 come no e quindi come dire il rapporto di nel rapporto di amici anche perché accettarsi non significa come dire non guarda appunto accettarsi significa guardare l'altro per quello che è con le sue debolezze e questo io ti ti vedo ti percepisco ti conosco per quello che sei realmente significa accetto anche che tu non debba essere l'immagine ruscorata di quello che voglio io ma che do valore a quello che sei tu per intero e e diventa un tuo alleato nella nella tua crescita tu lo diventi nella mia c'è appunto una una relazione che passa per per questo e anche lì se anche si demonizzano le aspettative allora se le aspettative sono proprio queste che stiamo dicendo nel senso delle aspettative sono quelle che l'altro corrisponde all'immagine che noi vorremmo avere di lui è chiaro che sono sbagliate ma sono sbagliate nella nella misura in cui un po ci vengono inculcate anche dall'acqua che si prestano poco di apparenza e è un po tra virgolette siamo quei bambini che non vogliono accettare la realtà delle cose quindi hanno una forma di negazione rispetto a quella che è la realtà ma se invece l'aspettativa è sì che hanno bisogno di riconoscimento continuo se il riconoscimento l'infantile il bambino ha bisogno perché attraversa quell'età del riconoscimento al bambino serve per crescere essere riconosciuto nell'amore in generale dei genitori ma anche nella società no di essere compreso e accettato ma nell'adulto no l'adulto deve avere già superato quella fase e quindi sapere che la certezza è dentro di sé il riconoscimento e del valore che tu io sappiamo di avere dopodiché io ritengo veramente la reciprocità sia un qualcosa che accade spontaneamente l'aspettativa alla reciprocità non è un'aspettativa con la bilancina ma è qualcosa che avviene in automatico quindi anche tradire quell'aspettativa sana che secondo me esiste nelle relazioni è uno sbaglio comunque io consiglio sulle relazioni di ascoltare il maestro Tich Nhat Han perché quello che parla di gentilezza è uno tra i maestri ripeti suo nome Tich Nhat Han non so proprio se si pronuncia così però io lo leggo così Tich Nhat Han fa della gentilezza la chiave delle relazioni quindi non pone l'accento come dire sul meglio pone l'accento su entrambi gli aspetti di un'azione come si reagisce alla relazione come si si agisce nei confronti del partner ed è sempre un agito di gentilezza e nella gentilezza secondo me c'è la chiave della crescita del rapporto. Cara su queste parole sulla gentilezza possiamo veramente concludere questa nostra live e confidenti l'uno nell'altro o l'uno nell'altra possiamo salutare anche tutti coloro che ci seguono anche se non in diretta però che seguono le nostre trasmissioni e ci diamo appuntamento alla prossima ciao cara ciao a tutti